Salve a tutti, torniamo a parlare di MotoGP Oggi parleremo di Misano 2018 Un gran premio che tra l'altro ho visto dal vivo E devo dire che è stata una bella esperienza Mi sono divertito molto Vedere dal vivo la MotoGP è molto molto diverso E' davvero molto molto bello Quindi invito tutti veramente ad andare almeno una volta a vedere le gare dal vivo Tra l'altro durante questo video vedrete insomma qualche ripresa che ho fatto a Misano Ma prima di questo insomma voglio parlare di quello che è successo durante questo gran premio Perché nonostante sia stata una domenica veramente molto molto bella Dato che c'è stata una vittoria italiana una dopo l'altra Quindi una vera e propria tripletta Sia in Moto3, Moto2 che in MotoGP Purtroppo in Moto2 c'è stata una situazione molto 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 spiacevole Ormai sicuramente ne avrete sentito parlare E sto parlando chiaramente di quel che è successo tra Romano Fenati e Stefano Manzi E' stato un gesto veramente molto 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 brutto Ha rischiato tantissimo Stefano Manzi E' veramente rimasto in piedi per miracolo Secondo me se Romano avesse mantenuto frenato il freno di Manzi per qualche secondo in più Secondo me quel poveraccio sarebbe caduto a terra e si sarebbe fatto molto molto male Purtroppo è un gesto ingiustificabile E' vero che entrambi stavano facendo una vera e propria battaglia Però insomma questo non giustifica nulla Perché le battaglie nel mondo delle corse ci sono sempre state Certo la loro è stata una battaglia molto accesa Anche più del dovuto Dato che entrambi non stavano né combattendo per la vittoria né per il mondiale Quindi una battaglia che si ok ci può stare Perché comunque insomma si cerca di arrivare sempre più in alto Quando si fa una gara Si cerca di arrivare in una posizione sempre un po' più in alto Ma sinceramente è stata una bagarre veramente esagerata E infine insomma c'è stata questa azione di frenati nei confronti di Manzi Che secondo me gli rovinerà un po' la carriera Perché innanzitutto è stato già squalificato per due gare E' stato anche squalificato durante questa gara Infatti c'è stata la bandiera nera per lui E inoltre il team con cui adesso lavora a fine stagione Concludere il contratto con lui Sono diciamo molto contrario con tutti quelli che insomma Gli stanno augurando la morte a lui e alla famiglia Che poi tra l'altro la famiglia cosa cazzo c'entra ancora non ho capito E questo secondo me è molto sbagliato perché non ha alcun senso Ok posso capire l'offesa Digli che è un bastardo che è un pezzo di merda Per tutto quello che volete Però insomma augurargli la morte E augurarla anche alla famiglia Non mi sembra sinceramente una cosa bella da dire Comunque a parte questa brutta situazione Devo dire che comunque è stata una bella domenica E' stato molto bello vedere le gare dal vivo E soprattutto è stato bellissimo vedere la vittoria di tre italiani In tutte e tre le categorie Perché in moto 3 ha vinto l'Orente della Porta In moto 2 bagnaia e in moto GP dovizioso Quindi veramente una domenica perfetta per noi italiani Peccato ovviamente per diciamo Le Yamaha insomma soprattutto per Valentino Rossi Dove qui ci aspettava qualcosina in più Però effettivamente la Yamaha non va Non va non va Anche qui che doveva dare qualcosina in più Non ha dato praticamente niente Vignales ha chiuso quinto Valentino Rossi ha chiuso settimo Quindi un risultato molto 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 triste Che conferma ancora una volta Che questa Yamaha fa veramente cagare Comunque a parte questo ripeto Fantastica domenica E' stato anche bello poi dopo Entrare insomma nel circuito Vedere tutto più da dal vivo Perché comunque si In tv è diverso Nel senso che Non è la stessa cosa che vederla dal vivo Certo devo dire che ci sono dei pro e dei contro Perché una cosa che non mi aspettavo E' che lo schermo Che insomma C'è per gli spettatori Detto che io ero sulla Brutapela 2 E' molto piccolo Porca puttana Perché insomma Chi guarda la gara dal vivo Vedrà soltanto una parte del circuito Poi tutte le altre parti insomma Sono molto lontane Non si vedono E quindi c'è uno schermo Per Per tutti qua Insomma Per vedere la gara Anche dall'altra parte del circuito Purtroppo però Lo schermo E' piccolissimo Non si vede un cazzo Quindi insomma Seguire la gara E' stato un po' problematico Infatti ad esempio Non avevo capito Che Lorenzo era caduto Verso la fine della gara E me ne sono accorso Tanto quando poi sono passati Davanti Davanti la mia tribuna E Insomma Questo diciamo E' un difetto Di quando si guardano le corse Dall'avvio Però insomma A parte questo Bella esperienza Bella esperienza Vi invito tutti Ad andare a vederla Almeno una volta Tanto insomma Abbiamo dei gran premi In Italia Al Mugello E a Misano Quindi Vi invito ad andarci Quindi Detto questo Fatemi sapere la vostra Su questo gran premio Fatemi sapere un po' Cosa ne pensate Lasciate un bel mi piace Questo video è piaciuto Iscrivetevi al canale E come sempre Vi invito ad unirvi Al gruppo Telegram Che trovate in descrizione Dove possiamo Continuare a parlare di questo E di molto altro E con questo ragazzi Vi saluto E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao a tutti Ciao 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 Ciao